Come ho parlato nei puntati passati sull'inci, l'ingrediente, come oggi è difficile capire di un prodotto di qualità, un prodotto marginale di supermercato, se le inci sembrano quasi identici, come si capisce un prodotto di qualità che giustifica il suo prezzo, anche di 30 euro al consumatrice finale, in confronto di quelli di 5, 3, 4, 5 euro di supermercato. Ma, purtroppo, come ho detto, non ci sono le regole che fa capire la purezza e le qualità. L'estratto di rosmarino sull'uno, c'è l'estratto di rosmarino sull'altro, ma c'è una grande differenza di qualità e di purezza dell'ingredientistica e della mediteria prima. E' importantissimo che quello che lavora la reception del salone, che le persone che animano, che parlano, che danno vita alla zona retail, che sono molto informati su quello che sono i prodotti di offerta della stagione, per le esigenze della stagione, e sono molto informati sulle ingredientistiche e il performance del prodotto. Perché è l'unico modo di difendersi contro i prezzi bassi e la disponibilità del supermercato. È l'unico modo di difendersi dalla farmacia, dove c'è la vendita assistita dalla farmacista. È l'unico modo di difendersi contro l'erberisteria, che anche lì c'è la commessa, la persona che lavora dentro molto, molto informata sulla materia prima, sul performance, su come applicare il prodotto, la vendita assistita. Ma la vendita assistita meglio di un salone di parrucchiere, dove c'è la professionista della bellezza, il salone del parrucchiere e quelli che lavorano dentro, dalla receptionist, dal salon manager e da quello che sta facendo i stage, per i shampoo, dei shampoo champista, tutti, tutti, tutti devono avere informazioni, essere informati al massimo su come fare una vendita assistita, animata, dei prodotti professionali all'interno del salone. Perché i prodotti professionali, il retail, la rivendita, a volte può essere fino a un terzo dell'incassi di tutte le attività e quello lì affitto, le bollette e le cose varie, è una bella quota delle tasse. Per cui le animazioni di vendita assistita è importantissimo, essere informati di capire che cosa hai da vendere e come animarlo al meglio. Grazie.